A essere obsoleti sono i dati, non i mammografi presenti in Friuli Venezia Giulia. Il vicepresidente della regione con delega alla salute Riccardo Riccardi risponde così all'indagine di Milena Gabanelli riportata dal Corriere della Sera sugli ospedali da evitare perché dotati di mammografi troppo vecchi e quindi inaffidabili. Secondo lo studio, i nosocomi dotati di apparecchiature vetuste sono quelli di San Daniele del Friuli, Tolmezzo e Palmanova La Tisana. Ma i dati a cui fa riferimento la ricerca sono poco aggiornati, ovvero risalgono al 2017, mentre lo scorso anno i mammografi più datati sono stati sostituiti con attrezzature più moderne. Come fa presente il vicegovernatore, l'apparecchiatura è già stata ordinata ma non è ancora operativa solo in un caso, ovvero La Tisana. Io non penso niente, penso che i dati pubblicati dal Corriere sono del 2017 e nel 2018 tutte queste attrezzature sono state o ordinate o sostituite. Ce n'è soltanto una che è in corso di installazione. Quindi questi dati sono obsoleti a questo punto? Direi di sì. Grazie. Grazie.